Siamo felicissimi che venga discussa appunto nella sua sede più appropriata che è appunto l'amministrazione comunale proprio perché si porti all'attenzione dell'amministrazione un tema fondamentale che è quello della rifezione scolastica e in particolar modo portare al centro della rifezione scolastica il bambino. Arriverà in Consiglio Comunale la battaglia del Comitato Giù le Mani d'Alemense con un sit-in in Piazza della Libertà in attesa della successiva discussione della delibera di iniziativa popolare accettata che sarà presentata dal Comitato. La delibera fondamentalmente in estrema sintesi riporta quelli che è il nostro scopo sin dall'inizio cioè no al centro unico, no al project e sì invece alle mense interne alle cucine perché secondo noi il cibo di qualità, quindi il chilometro zero, la filiera corta, il biologico trasformato in un centro unico per 5.000 pasti giornalieri evidentemente produce un cibo che da alcuni scienziati e professionisti medici è stato definito come un cibo morto, cioè privo di qualsiasi proprietà nutritiva e chiaramente organolettica. Nei giorni precedenti inoltre il Comitato ha preso parte alla prima riunione del tavolo tecnico permanente convocato dall'amministrazione comunale per discutere degli aspetti connessi al servizio di refezione scolastica. Noi ci stiamo apprestando ad una rivoluzione tranquilla, il modello attuale ha ormai 40 anni e quindi ha bisogno di essere modernizzato, ha bisogno di essere migliorato e lo strumento è il numero delle cucine, il contenuto è tutto quello che ci sta dentro e quindi il progetto educativo, formativo, il confronto con le aziende del territorio con tutti quelli che sono oggi soggetti importanti per l'alimentazione e per l'educazione alimentare di questo abbiamo parlato. Poi esistono più modelli in Italia, c'è il modello di Cremona che ha una cucina in ogni scuola c'è il modello di Sesto Fiorentino che ha una supermenza per tutte le scuole dell'area fiorentina a Rezzo si candida a non copiare modelli ma crearne uno proprio cioè si candida ad essere una città che cambia questo sistema non in un anno ma in diverso tempo e quindi abbiamo chiesto un accompagnamento di chi può essere persona competente e abbiamo avuto un grande riscontro di supporto. Al tavolo hanno preso parte tra gli altri l'Ordine dei Medici, quello dei Veterinari, le Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Agricoltura, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri e l'Associazione Culturale Pediatri. Tutte queste figure in realtà hanno aumentato la loro consapevolezza su questo tema così cruciale per la cittadinanza e hanno seguito anche quelle che sono state le nostre iniziative e hanno definito il modello Cremona, quello che noi abbiamo anche descritto durante la nostra conferenza dello scorso febbraio, come un modello auspicabile.